sì certo questa roba di orsini è totalmente lì bastava semplicemente dire che questo qua mi dispiace temi davvero a a rimasticato e detto molto malamente tra l'altro con una forma di buonismo cattolico le vecchie idee del john mersheimer ma insomma le conosciamo e sono delle idee del cazzo perché si riducono a dire ma guardate esiste uno status quo mondiale lo status quo mondiale deciso da chi era bomba atomica e la posa in maniera efficace cioè fondamentalmente russia e stati uniti e forse cina nell'immedia nel prossimo futuro costoro decidono il destino dei paesi quindi i paesi che vogliano violare quel destino loro ha sognato passino prima dal distributore del capo e chiedono il tri il timbro questo è il grande realismo politico di john il quale ce l'ha fondamentalmente siccome un vero reazionario chi lo conosce lo sa cioè a reazione intelligente io non è comista vi fa girare le balle perché conosco un tipo di reazionario americano che reazionario solo perché americano che gli piace molto di miglia spacco il cuore a tutti ok quindi poi bisogna anche saper leggere dietro no che i toni di questi qua sono sì sì non rompete il cazzo realismo tanto noi spacchiamo il culo a tutti quindi decidiamo noi cazzo dobbiamo fare no sono quelli di del famoso nixon si x y z un figlio di puttana un criminale ma il nostro figlio di puttana allora per carità è una posizione normativa non accettabile ma legittima dice ci sono due poteri imperiali forse tre e non rompete il cazzo come teoria della politica farida di pollastre perché perché non spiega un cazzo non spiega un cazzo dalla polonia la germania est dal brasile che gira e volta all'argentina al messico che oggi è una presidenza socialista assolutamente anti americana non spiega un cazzo perché se la sua teoria fosse vera due anni fa quando cazzo è stato eletto l'ho pensato tre anni fa i marines avrebbero si sarebbero concentrati al palo retto colpo di stato all end punto punto zero cioè capisci quindi è una come teoria della politica mondiale farida ripollastra come regola normativa di condotta dice se sei gli stati uniti bene va tutto bene se la russa va tutto bene se l'italia ti culi si prende in considerazione un sacco di di sfumature che poi esistono nel giorno non permette alla storia di esistere agli esseri umani a uno non è profondo davvero non è profondo è banale 2 è in contraddizione con ciò che viene nel mondo 3 va benissimo se sei biden putin sci tutti gli altri si culano